A Limini, località situata in uno degli scenari più belli del Salento, rinomata per le sue stupende spiagge di sabbia dorata e per il mare sempre limpido e pulito, ti una delle mete turistiche più frequentate durante il periodo estivo. Ed è in questo suggestivo angolo di paradiso che Eden Viaggi offre uno dei suoi magnifici club, il Koine, situato a due chilometri da Otranto. Il villaggio si compone di 82 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv, frigo bar, aria condizionata. Sono disponibili in oltre quattro camere per i diversamente abili, di cui una comunicante con un'altra camera doppia. Eden Viaggi offre ai suoi clienti un ristorante a buffet, fronte piscina, con servizio al tavolo per i secondi piatti, il ristorante per bambini l'Indianino, organizzazione di serate tipiche, show cooking all'isola della pasta, acqua e vino ai pasti, un bar nella hall e uno a bordo piscina. Per gli amanti dello sport, una piscina con vasca idromassaggio integrata. Si organizzano inoltre attività di aerobica e acqua gym, spazio verde attrezzato, campo calcetto in misto sabbia vulcanica, percorsi cicloturistici nell'area dei laghi di Alì. Eden Viaggi offre animazione di urna e serale con un attivissimo staff di animatori che organizza corsi ed attività sportive, programmi di intrattenimento e spettacoli con cabaret, musical e giochi. Per i più piccini, miniclub da 4 a 10 anni ad orari prestabiliti, con personale specializzato a completa disposizione. La struttura è situata a pochi minuti dalla spiaggia di sabbia dorata di Alimini, attrezzata di ombrelloni, draio. Le acque cristalline digradano molto lentamente rendendo facile e sicuro l'accesso. Il villaggio inoltre mette a disposizione una navetta da e per il mare ad orari prestabiliti. L'assistenza costante agli ospiti è garantita da uno staff multilingue, residente al villaggio presso i nostri uffici. Eden Viaggi augura a tutti un'ottima permanenza. Il villaggio inoltre mette a disposizione 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 un'ottima permanenza. Grazie a tutti.